Ehi, fermati un attimo. Ascoltami bene. Resta qui con me e guarda questo video fino alla fine perché ti dirò come diventare il miglior venditore della tua azienda e del tuo settore seguendo i 4 semplici step del mio processo di chiusura umanizzato. Un sistema che ha permesso a centinaia di venditori, libri professionisti e imprenditori italiani di chiudere accordi da migliaia a milioni di euro. No, tranquillo, non sono tra quei giovani marchettari che vedi online ogni singolo giorno, che ti mostrano i loro guadagni stellari dal loro appartamento di Dubai. Ho una lunga storia alle spalle, una reputazione ai massimi livelli e ho un messaggio vitale per te. Ti sei accorto anche tu che è sempre più difficile vincere una trattativa commerciale senza calare le braghe o assecondare richieste pretenziose? E cosa dire di chi ti contatta e poi sparisce come neve al sole? Succede anche a te, vero? Ma soprattutto, hai capito su quale livello si è spostata la moderna trattativa tra venditore e compratore? Vedi, tutto ciò che ha funzionato, anche di recente, per chiunque venda qualcosa, oggi non funziona più. La brutta notizia è che non puoi più presentare ciò che vendi come sei abituato a fare, né tanto meno ignorare ciò che ti dirò. Sì, perché l'iperconcorrenza, l'instabilità economica e la nuova psicologia dell'acquisto ti cancelleranno dal mercato se non sai cosa e come fare. E purtroppo, anche se non te ne rendi conto, sei già sotto attacco. Ma c'è anche una bella notizia. Infatti, per ogni cambiamento, per ogni evoluzione, c'è sempre una soluzione. Qualcosa che, nel nostro caso, risponde alle nuove regole della vendita e che funziona molto bene. Anzi, benissimo. Per questo motivo ti do accesso al mio metodo, al mio processo di chiusura umanizzato e altamente persuasivo, che funziona in ogni economia, settore e con ogni tipo di prospect. Un processo semplice da capire, facile da ricordare e stimolante da applicare. Non si tratta di vendita online, ma di vendita di persona, al telefono o in videocall. Ho trasformato centinaia di venditori in closer della vendita. Molti di loro sono stati premiati come venditori dell'anno, altri sono riconosciuti tra i migliori del loro settore. Ma la sai una cosa? Anche tu imparerai a creare una forte e profonda empatia, ad esplorare a 360 gradi i tuoi prospect e a presentare nel giusto modo e momento ciò che vendi. Chiuderai affari con estrema semplicità alle tue condizioni e guadagnerai tutto ciò che ti meriti per vivere la vita come la vuoi tu. Tu sfrutta il mio processo di chiuso romanizzato. Io sono Fabio Cibello, il coach dei venditori e ti posso aiutare, ma il tempo sta per scadere. Per cui clicca sul link che vedi qui sopra o qui sotto o in descrizione e ci vediamo dall'altra parte. Grazie a tutti.